Questo labirinto è proprio impossibile, da ogni parte c'è un muro che ti blocca, ma non fermarti, insisti, cerca la strada giusta. Il labirinto magico, un gioco in cui anche i muri tremano. Labirinto magico, un gioco. Entra nel labirinto e fatti prendere da un gioco intelligente e imprevedibile, pieno di suspense e di strategia. Ma fai attenzione, quando pensi di aver raggiunto il tesoro, un muro ti può sbarrare la strada. E allora spezza l'intricato incantesimo del labirinto magico.